Salve professoressa, ma viaggiare con la ricevuta del permesso di soggiorno come funziona? Viaggiare con la ricevuta del permesso di soggiorno è possibile. In questo articolo vi spiegheremo le condizioni per poterlo fare. Anzitutto bisogna ricordare che nel momento in cui scade il permesso di soggiorno e se ne richiede il rinnovo, vi viene rilasciata una ricevuta al momento della spedizione del kit di richiesta innovo del permesso di soggiorno. Ma cosa si può fare con la ricevuta? Con la ricevuta il cittadino straniero può fare tutte le attività che si possono fare con il permesso di soggiorno in corso di validità. Quindi sostanzialmente, il cittadino può 1. Può firmare un contratto di affitto o di lavoro 2. Richiedere la residenza 3. Farsi curare 4. Iscriversi all'università o ad altri corsi di formazione Permesso di soggiorno scaduto posso viaggiare Gli stranieri in attesa del rinnovo del titolo di soggiorno possono uscire dall'Italia e rientrarci se in possesso 1. Della ricevuta rilasciata da poste italiane S. P. A. Che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del loro permesso di soggiorno o della carta di soggiorno 2. Punto del titolo di soggiorno scaduto 3. Punto del passaporto o altro documento equipollente e a condizione che 4. L'uscita e il rientro avvengano attraverso una qualunque frontiera esterna italiana circolare 11 marzo 2009 Pertanto lo straniero può recarsi nel suo paese e rientrare in Italia solo con volo diretto Quindi senza scali in paesi Schengen In caso l'aereo faccia scalo in paesi extra Schengen lo straniero dovrà informarsi preventivamente presso le autorità Diplomatiche, ambasciata o consolato, del paese dello scalo oppure presso un operatore turistico sulla possibilità di transito prevista per i cittadini del suo paese 5. Lo straniero esibisca il passaporto o altro documento di viaggio equipollente Unitamente al visto d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno, lavoro subordinato 5. Lavoro autonomo o ricongiungimento familiare, e la ricevuta di poste italiane S. P. A. 6. Il viaggio non preveda il transito in altri paesi Schengen, essendo lo stesso precluso Grazie mille professoressa